si rovescia con la macchina all'alba ferita una trentunenne dimezzate le quarantene respirano le scuole marchigiane sempre più farmacie aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco scuola di borgo santa maria lavori fermi da due anni montelabate e vallefoglia sempre più unite in progetti condivisi buona serata tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 3 febbraio apriamo mostrandovi queste foto che si riferiscono ad un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 5 30 a pesaro in via gagarin all'altezza della concessionaria diba le foto inviateci da una nostra telespettatrice che ringraziamo si riferiscono all'auto rovesciatasi di una trentunenne di san giovanni marignano rimasta ferita con gravi traumi e trasportata all'ospedale di pesaro non in pericolo di vita e secondo gli ultimi aggiornamenti senza aver riportato lesioni permanenti sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 le pattuglie di carabinieri vigili del fuoco che già alle 7 30 avevano sgomberato la strada e messo in sicurezza la circolazione la ragazza in questione stava rincasando dopo un turno di lavoro notturno quando ha perso il controllo del mezzo sconfinando con l'auto sull'erba al bordo della carreggiata l'impatto col terreno viscido in parte ghiacciato delle prime ore del mattino ha fatto carambolare l'auto urtando un albero e finendo per rovesciarsi anche le scuole marchigiane tornano presumibilmente a respirare dopo il nuovo decreto del consiglio dei ministri che di fatto dimezza il carico delle quarantene e il ricorso alla didattica a distanza il servizio anche le scuole marchigiane tornano a respirare alla luce dell'ultimo decreto covid emanato ieri dal consiglio dei ministri che di fatto rende meno opprimente o perlomeno più sostenibile il carico di didattica a distanza e quarantene nuovo decreto che fa sì che nelle scuole per l'infanzia fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza con mascherine ffp2 in aula mentre dal quinto caso di positività le attività vanno in dad per cinque giorni a partire dalle scuole elementari invece gli studenti che si sono vaccinati non andranno più in dad che invece scatterà solo per i non vaccinati durante cinque giorni naturalmente andranno in quarantena anche i vaccinati che risultano positivi al contagio la dad sarà innescata dopo cinque casi positivi in classe nella scuola primaria dopo due nella scuola secondaria si rientra a scuola dopo test antigenico negativo al quinto giorno di quarantena un provvedimento che dovrebbe entrare in vigore dal 7 febbraio alleggerendo il fardello per scuole famiglie ma anche per le farmacie che scrutano uno stato di gestione anziché uno d'emergenza dal punto di vista della prospettiva ci dà l'idea che si possa in tempi ragionevolmente brevi uscire da una situazione di emergenza e passare ad una situazione di gestione di una normale problematica sanitaria come potrebbe diventare il covid rispetto a quello che è stata l'emergenza fino a questo momento scuola parte il nuovo decreto prevede anche la durata illimitata del green pass per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino o per chi si è contagiato dopo due dosi l'altra novità è che i regolamenti d'eventuale zona rossa resteranno in vigore solo per i non vaccinati sono 4.607 i nuovi contagi da covid-19 nelle marche di cui 863 in provincia di pesero urbino numeri anche per l'ottavo giorno consecutivo abbassano l'incidenza da contagio che oggi si attesta a 2.128 casi ogni 100.000 abitanti crescono lievemente i ricoveri che passano da 392 a 395 ma si abbassa il dato dei pazienti in terapia intensiva che scende da 58 a 55 9 i decessi registrati oggi di età compresa fra 57 e 96 anni farmacie sotto pressione ma farmacie che ampliano anche la loro adesione alla giornata di raccolta del farmaco 22esima edizione dell'iniziativa organizzata dal banco farmaceutico che porta al dono di medicinali verso le famiglie in stato di povertà che si terrà dall'8 al 14 di febbraio dall'8 al 14 di febbraio si terrà la 22esima giornata di raccolta del farmaco in che cosa consiste nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa si potrà entrare acquistare un farmaco che verrà poi devoluto a un ente associato alla farmacia la situazione nazionale mondiale è quella che è però direi che mettersi una mano sul cuore e pensare a chi non può neanche comprarsi una aspirina direi che fa bene a chi la dona più che a chi la riceve quindi andate tutti in farmacia a donare le farmacie che aderiscono quest'anno al banco farmaceutico in tutta la provincia sono 44 direi che siamo molto contenti perché al di là del punto del periodo ci sono due farmacie nuove quindi che hanno creduto e che credono nella carità inizialmente le farmacie comunali non aderivano e da inizio mandato quindi da tre anni a questa parte con una collaborazione insieme al comune si è fatto in modo che anche le farmacie comunali potessero aderire due anni fa erano tre farmacie poi l'anno scorso quattro e quest'anno arriviamo a sei questa è una grande soddisfazione da un lato e dall'altro dice anche di quella che a mio avviso è la politica sussidiaria cioè di un'amministrazione che sostiene le opere già presenti sul territorio e questa è una buona direzione una buona iniziativa anche politica passiamo da quattro a sei abbiamo aggiunto la farmacia rinnovata di via giolitti che per noi un pochino l'ammiraglia rispetto al gruppo delle nostre farmacie e anche la farmacia del comune di gabice quindi territorialmente cerchiamo di dare così risposta all'esigenza della raccolta del farmaco è un'iniziativa a cui noi aderiamo con grande impulso perché crediamo che il ruolo che hanno svolto le farmacie in senso generale ma soprattutto in questo periodo di pandemia sia un ruolo fondamentale a sostegno e a supporto del sistema sanitario anzi come parte integrante del sistema sanitario ringraziamo il banco farmaceutico i 15 mila volontari in tutta italia e anche nel nostro territorio che sono impegnati nei prossimi giorni a raccogliere i farmaci per fare un'attività importante per la comunità la nostra comunità quindi invito tutti a donare qualcosa nei giorni del banco farmaceutico l'italia è un paese in cui il diritto alla salute è un diritto assolutamente garantito ma questo purtroppo non sempre può avvenire per le cose più lievi in quanto le famiglie quando si trovano a dover acquistare farmaci da banco e quindi a doverne sostenere il peso possono essere messe in difficoltà soprattutto in tempi difficili come questi quindi trovo che questi tipi di iniziative siano un aiuto e un sollievo alle famiglie in questo momento difficile e fra i vari partecipanti che avete potuto ascoltare in occasione della conferenza di presentazione della giornata di raccolta del farmaco c'era anche l'assessore alla solidarietà del comune di pesero luca pandolfi che ha commentato così la sua recente nomina a presidente del comitato dei sindaci dell'ambito territoriale sociale 1 c'è tanto lavoro da fare però l'ambito territoriale che diciamo coinvolge i sette comuni dell'area è molto impegnato ed è all'avanguardia nella regione per i progetti che realizza quindi in questo momento di sfide il 15 febbraio escono anche i PNRR sociali noi siamo pronti e lavoriamo per dare servizio ai cittadini ed ora ci occupiamo di opere incompiute già perché dopo due anni di cantieri fermi rientra pieno in questa categoria anche la scuola di Borgo Santa Maria ormai da due anni la scuola primaria di Borgo Santa Maria ha un terzo d'istituto bardato di impalcature ma senza lavoro in corso l'operazione di messa in sicurezza della parte dell'edificio pertinente alla palestra iniziò ma fu poi subito interrotta quello che però poteva apparire come uno stop momentaneo è diventato uno stallo prolungato stallo che ora finisce sul tavolo del Consiglio Comunale a portarcelo il consigliere d'opposizione di Prima Cepesaro Emanuele Gambini che nell'occasione si è fatto portavoce del bisogno di delucidazioni reclamato soprattutto dalle famiglie degli studenti chiedere il decoro di questi giorni è di moda a Pesaro oltretutto a Pesaro la scuola di Via La Marmora è diventata un'eccellenza e l'amministrazione se ne fa un vanto di questo la scuola Don Bosco a Villa San Martino sono iniziati i lavori del cappotto e della ristrutturazione quindi anche i residenti, i genitori dei ragazzi, le maestre e chi frequenta quella scuola chiede come mai questa scuola è stata lasciata così all'abbandono ecco non ci sono segni di inizio lavori o di qualcuno che comunque riprenda i lavori in questo momento anche il costo delle impalcature ferme lì sappiamo quanto possano costare le impalcature ferme lì da più di un anno anche oggi che c'è questo bonus 110 delle facciate chi si appresta a fare dei lavori sa quanto sia difficile reperirle quindi immagino che anche queste abbiano un costo che vadano oltre ormai a quello che era stato programmato quindi da parte mia, da parte viene richiesta questa immediata delucidazione su quello che saranno i lavori quanto tempo ci vorrà ancora per portarli a termine e ci auguriamo ecco soprattutto che vista l'attenzione che l'amministrazione ha per le scuole che ci sia un inizio dei lavori veloce e a breve un lavoro interrotto che stride con quello completato alla precedente ristrutturazione interna dell'istituto c'è bisogno di chiarimenti ma c'è la diffusa convinzione che senza il murale che troneggia fin dagli anni 80 sulla parete della scuola il cantiere sarebbe già stato ultimato a fermare le ruspe è stato infatti lo scrostamento di quell'opera pittorica che da 30 anni è una sorta di biglietto da visita all'arrivo a Borgo Santa Maria perché nella frazione pesarese c'è stato chi ha fatto notare l'esigenza di una prospettiva di recupero del murale che di fatto ha congelato ogni passo avanti ora però lo stallo sembra davvero doveroso di chiarimenti ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato che vedete in grafica 370-366-7210 accendiamo oggi le nostre telecamere in uno dei sottopassaggi che conducono alle spiagge sottomonte tanto frequentati d'estate dai bagnanti quanto scambiati per pattumiere d'inverno come ci mostra questo servizio di Edoardo Razzi oggi le telecamere di Rossini TV tornano a riaccendersi per dare spazio alle vostre segnalazioni segnalazione che ci è arrivata da un telespettatore che ha denunciato lo stato di incuria presente nel sottopassaggio numero 5 nella zona sottomonte come potete vedere dalle immagini che vi mostriamo si possono notare numerevoli cartacce diverse forme di plastica, sterpaglie, tante lattine e numerose foglie una sporcizia che si è accumulata sicuramente nel periodo tra autunno e inverno in un luogo che spesso viene trascurato dopo i tre mesi estivi chi non ne si è dimenticato è invece chi ha sporcato fregandosene del rispetto per l'ambiente, delle altre persone e del posto in cui vive quando la stagione balneare si conclude la zona sottomonte diventa un'area tipicamente poco frequentata trasformandosi spesso nell'habitat ideale per il degrado un comportamento quello tenuto da qualche individuo che va sicuramente in controtendenza con gli obiettivi elencati da Ricci in occasione degli ultimi stati generali di midterm dove pretese a gran voce di mantenere ancora più pulita la città di Pesaro una richiesta non impossibile all'apparenza ma per essere portata a termine è necessario che tutti abbiano maggiormente un occhio di riguardo verso la terra che calpestiamo e l'aria che respiriamo sono in arrivo 3 milioni di contributi ministeriali al comune di Pesaro attraverso un bando presentato a maggio per creare in città un polo dell'infanzia da 0 a 6 anni a darle notizia sono stati il sindaco Matteo Ricci gli assessori Camilla Murgia e Riccardo Pozzi per un contributo che coprirebbe l'80% dei 3 milioni e 700 mila euro previsti per un progetto che intende demolire e ricostruire l'edificio comunale di via Rigoni attuale sede della scuola materna statale Scarabocchio e sostituirlo con un polo 0 a 6 anni comprendente una scuola per l'infanzia da 4 sezioni di 30 alunni un asilo nido per 30 bambini e un centro polifunzionale dedicato a servizi alla famiglia e passiamo al comune di Gabicce Mare che ha concesso contributi alle famiglie in difficoltà economica per il pagamento delle utenze domestiche utilizzando risorse derivanti dal fondo messo a disposizione dal decreto Ristori Bis e integrandolo con un contributo di Marche Multiservizi per un totale di 34.921 euro a beneficiarne sono state 95 famiglie che hanno ricevuto un totale di 358 euro a nucleo familiare a fronte del rimborso spese per le utenze di acqua, riscaldamento, rifiuti, energia elettrica e superando la quota prevista inizio anno che era di 300 euro il festival della saggistica fanese Passaggi Festival si prepara alla sua decima edizione in programma dal 20 al 26 giugno e oggi ha ufficializzato il suo logo per il decennale il brand vincente è scelto e stato quello della graphic designer Maria Chiara Indelicato al teatro sperimentale domenica 6 febbraio alle ore 18 prosegue la stagione concertistica dell'ente Concerti con l'atteso recupero dell'esibizione del duo composto dal flautista Massimo Mercelli e dal pianista Lorenzo Bavai entrambi i solisti di alto profilo internazionale sono legati da un sudalizio trentennale che li ha portati ad esibirsi in importanti concerti e festival sia in Italia che all'estero nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato questo video recapitatoci da un nostro telespettatore che si riferisce all'attraversamento di una mezza dozzina di cinghiali alla rotatoria di Villa Fastigi un tema sul quale è intervenuta oggi col diretti Pesaro Urbino additando l'episodio come l'ennesimo campanello d'allarme di una fauna selvatica fuori controllo che oltre ai danni agli agricoltori mette anche a rischio l'incolumità delle persone le marche risultano infatti al quinto posto della classifica nazionale per incidenti gravi tra automezzi e animali nei quali si sono registrati feriti tra conducenti e persone a bordo nei primi sei mesi del 2021 se ne sono registrati sette contro gli undici di tutto il 2020 una classifica che non contempla il numero ben maggiore di incidenti senza feriti sono sempre più uniti in progetti condivisi i comuni di Montelabate e di Vallefoglia che oggi hanno firmato un protocollo d'intesa per pianificare assieme viabilità, manutenzioni e progetti di sviluppo economico come ci spiegano i due sindaci nelle interviste realizzate da Edoardo Razzi un protocollo d'intesa tra il comune di Vallefoglia e quello di Montelabate da quale esigenza nasce e quali sono gli obiettivi abbiamo delle esigenze anche strutturali e organizzative e di manutenzione di tantissime cose in comune come può essere le strade, possono essere eventuali ciclopedonali e comunque abbiamo le zone industriali che sono fortemente in contatto e quindi per il bene anche lo sviluppo del territorio abbiamo deciso di iniziare questo rapporto firmando un protocollo d'intesa spero che con la firma di questo protocollo possiamo iniziare concretamente un lavoro importante anche in previsione dei fondi che mette a disposizione il PNRR e perché vorremmo partire io e Palmiro nella sistemazione del ponte dell'Orciaia che è un piccolo ponte costruito ormai 50 anni fa tra il comune di Montelabate e il comune di Vallefoglia è tenuto conto che a Vallefoglia è già stata edificata questa struttura importante una struttura sanitaria molto importante è giusto potenziare anche la viabilità e a oggi dopo anni e anni di blocchi, dei bilanci con i piatti di stabilità, con il blocco delle assunzioni del personale sia il comune di Montelabate che il comune di Vallefoglia si trovano comunque in un sottorganico e questi sottorganici non ci permettono poi di creare squadre importanti per creare progetti e accedere alle risorse che effettivamente vengono messe in campo anche dalla regione quindi l'unione, come poi dice anche il detto, fa la forza in questo caso è vero perché riusciamo a mettere insieme i due comuni ma riusciamo a unire le forze per poter accedere a eventuali finanziamenti che da soli, almeno come comune di Montelabate, non ci riusciamo Un rapporto, un'intesa fra due comuni, fra due città che hanno rapporti quotidiani dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ai temi della cultura Se penso alle ciclo pedonali recuperando magari con una progettualità condivisa anche la vecchia Abdagna la passarella, quella in ferro a fianco al ponte qui di Montelabate che confina i due comuni magari con una ciclo pedonale che va al cimitero degli inglesi e dei canadesi oppure la linea gotica e poi insomma tante altre inestative il riferimento che faceva al ponte dove c'è questo investimento di coesione sociale di civiltà smarche che è un intervento privato ma è convenzionato col comune di Vallefoglia e diciamo un investimento importante che crea lavoro 150 dicono loro 170 porti di lavoro e dà una risposta soprattutto alle comunità più anziane sono tanti gli elementi che ci accomunano che possono portare del benessere ai nostri cittadini e chiudiamo con lo sport si è concluso ieri con un doppio 1 a 1 il turno infrasettimanale di calcio che ha viste impegnate Vispesero e Alma Juventus Fano pari più gratificante per la vischia Ponte d'Era si è illusa col vantaggio immediato di Cannavò ed è stata raggiunta dai Toscani nella ripresa per un punto che comunque consolida il piazzamento playoff dei Biancorossi un 1 a 1 che invece non smuove la classifica del Fano che ha il Mancini col Portodascoli va in vantaggio con Casolla ma si fa raggiungere dal gol di Spagna Fano che domenica non giocherà il match col Castelnuovo Vomano in quanto è arrivata oggi l'ufficialità del rinvio a causa di un focolaio di Covid nella squadra abruzzese la Vis invece domenica scenderà regolarmente in campo al Benelli alle 14.30 con la Viterbese e si conclude col calcio la nostra edizione delle telegiornale Rossini News e invece la nostra prima serata sarà interamente dedicata al basket perché come ogni giovedì torna l'appuntamento con Insieme a Canestro il nostro format è dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro come sempre alle 21.20 vediamo chi saranno gli ospiti di questa puntata l'ala della VL Doron Lamb e responsabile marketing della Lega Basket Marco Aloi appuntamento dunque questa sera alle 21.20 mentre vi aspetto domattina alle 7.20 con la consueta rassegna stampa Buongiorno Rossini appuntamento sempre in diretta dalle 7.20 come ogni giorno da lunedì al sabato e poi le repliche alle 8.20 12.30 14.18 domani è venerdì ed è anche il giorno del Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio di Vallefoglia che sarà condotto da Edoardo Orazzi appuntamento alle ore 20 prima replica alle 23.15 vi diamo anche un appuntamento per domenica 6 febbraio quello della Santa Messa che ogni domenica vi stiamo trasmettendo questa volta Messa che sarà trasmessa in diretta dal Duomo di Pesaro appuntamento dunque domenica alle 11.30 in diretta su Rossini TV ora vi lascio invece alle previsioni del tempo e vi auguro una buona continuazione di serata in compagnia dei nostri programmi